Nato in Germania, Giovanni Keplero si è conquistato un posto di primissimo piano nella storia dell'astronomia per aver formulato tre leggi empiriche riguardanti il moto dei pianeti. Attraverso le sue leggi che accolgono la teoria eliocentrica copernicana getta le nove basi della meccanica celeste. La teoria eliocentrica proposta dall'astronomo polacco Niccolò Copernico affermava che il sole e non la terra fosse al centro del sistema solare e dell'universo e che i pianeti percorressero orbite circolari intorno al sole. Pur fondando la sua esperienza sulla elaborazione dei dati matematici e sulla grande mole di osservazioni, Keplero mantiene ancora le tipiche componenti degli antichi astronomi che erano al contempo amati e denigrati. Keplero basa il proprio lavoro sulla osservazione dei fenomeni e sulla elaborazione matematica dei dati ottenuti. Egli ebbe la grande fortuna di essere chiamato come assistente dall'allora famosissimo astronomo danese Tycho Brahe. Brahe aveva a disposizione una mole rilevanti di dati che aveva preso con paziente cura durante i suoi studi sui moti dei pianeti e in particolare su Marte che presentava delle orbite di difficile interpretazione. La traiettoria di Marte portò Brahe a definire il sistema solare come un sistema misto cioè tra quello tolemaico e quello copernicano. Keplero invece era convinto della bontà del sistema gliocentrico e forte dei dati presi sia da Brahe che da lui stesso lo portò a pensare a un modello geometrico attraverso cui era possibile interpretare i moti dei pianeti. Fu proprio grazie all'orbita di Marte che Keplero pose le basi per una nuova interpretazione della meccanica celeste. Keplero propone tre leggi che definiscono un modello di descrizione del moto dei pianeti del sistema solare. La prima legge di Keplero detta anche dell'ellisse fu formulata nel 1608. Essa afferma che i pianeti descrivono orbite ellittiche di cui il sole occupa uno dei due fuochi. Keplero propone quindi un modello eliocentrico in cui non vengono più considerate orbite circolari perfette bensì orbite ellittiche. L'ellisse è una figura geometrica piana simile ad un cerchio schiacciato e il grado di schiacciamento viene detto eccentricità. L'ellisse è costituita da due fuochi un asse maggiore e un asse minore. In realtà l'orbita terrestre è quasi circolare e ai fini didattici per comprendere meglio le leggi di Keplero si disegna un'ellisse fortemente schiacciata. Come conseguenza dell'orbita ellittica la terra durante il periodo di rivoluzione intorno al sole si troverà il 3 luglio circa a una distanza massima detta Afelio corrispondente a 151 milioni di chilometri e il 3 gennaio circa a una distanza minima detta Perielio che corrisponde a circa 147 milioni di chilometri. La seconda legge di Keplero fu formulata nel 1609 e viene detta anche legge delle aree. Essa afferma che il raggio vettore che congiunge il centro del sole con il centro del pianeta spazza aree uguali in intervalli di tempi uguali. Il raggio vettore non è altro che la distanza del pianeta dal sole. Ogni pianeta muovendosi intorno ad esso varia la propria velocità orbitale in modo tale che il raggio vettore descriva aree uguali in tempi uguali. Quando la terra si trova alla massima distanza dal sole cioè in Afelio la velocità sarà minima mentre sarà massima quando la terra si troverà in Perielio. Per spazzare la medesima area la terra dovrà quindi muoversi più velocemente in Perielio e più lentamente quando si troverà in Afelio. Consideriamo le due aree uguali a e a primo e i tratti di curva a b e c d volutamente esagerati e ammettiamo ad esempio che le due aree vengano descritte in 60 giorni. Perché ciò avvenga la velocità di rotazione della terra nel tratto a b cioè in prossimità del Perielio deve essere necessariamente maggiore rispetto al tratto a c d cioè quando la terra si troverà in prossimità dell'Afelio. Tuttavia benché Keplero avesse trovato validità nelle sue leggi non era riuscito a spiegare le relazioni dei moti tra diversi pianeti e ciò gli comportò ancora sforzi notevoli prima di giungere alla terza legge. La terza legge di Keplero fu formulata nel 1619 ed afferma che il rapporto dei quadrati dei tempi medi di rivoluzione e la distanza media al cubo sono costanti cioè t al quadrato fratto di al cubo uguale a k dove t è il periodo medio di rivoluzione e di la distanza media del pianeta dal sole. Attraverso questi due esempi chiariremo meglio il concetto. Mercurio il pianeta più vicino al sole dista 58 milioni di chilometri e il suo periodo di rivoluzione è di 88 giorni. Ponendo comunità di misura la distanza media terra sole che è pari a 150 milioni di chilometri e il periodo di rivoluzione della terra che è di 365 giorni rapportiamo questi valori con quelli relativi a mercurio. Ne consegue che il periodo di rivoluzione di mercurio sarà pari a 0 a 241 e la distanza media di mercurio sarà pari a 0 a 387. calcolando i quadrati dei tempi e le distanze al cubo del pianeta il rapporto sarà pari ad 1. Allo stesso modo considerando Saturno giungiamo al medesimo risultato. Saturno dista un miliardo e 440 milioni di chilometri dal sole e presenta un periodo di rivoluzione di 29,5 anni. Eseguendo gli stessi calcoli fatti per mercurio il rapporto sarà pari ad 1. Dopo aver illustrato le tre leggi di Keplero possiamo concludere che attraverso le prime due leggi viene accadere la concezione che il moto dei pianeti debba essere descritto solo con moti circolari e costanti. La seconda e la terza legge dimostrano anche che il moto di ciascun pianeta è tanto più veloce quanto più vicino al sole e tanto più lento quanto più distante da esso. Inoltre la terza legge di Keplero ci permette di calcolare determinato il periodo di rivoluzione di un pianeta intorno al sole anche la sua distanza da esso secondo la seguente relazione t al quadrato uguale d al cubo. E' bene ricordare che le sue leggi sono applicabili non solo al moto dei pianeti ma anche a quelli dei satelliti artificiali, delle sonde spaziali, delle comete e degli asteroidi. Insomma Keplero aveva implicitamente introdotto il concetto di forza di gravità che fu enunciato da Isaac Newton nel 1687.